Continua il controllo dell'amministrazione della Polizia Municipale guidata dal Comandante Gerardo Iuliano. Questa mattina è stata sequestrata, dopo un sopralluogo dei vigili con l'assessore Carolina Vicinanza, un'enorme discarica all'interno di una casa diroccata in via Sturzo. L'area è stata transennata con una barra di cemento. Sarà inoltrata notizia di reato a carico dei proprietari dell'immobile. Sono in corso le dovute indagini. Sono stati già individuati i responsabili degli sversamenti di rifiuti raccolti da coloro che se ne disfano dietro pagamento invece di conferirli all'isola ecologica.